Un costo, una singola diretta, tiene un sumo che mi nessuno dedicava. E' da 25 florini. Para casa. Non para container, pero para casa. Se erano 15, e poi hai due o tre container, un sumo è da 31. 25 florini. T'nei administrati, cosa andava, e vinti e sei, se tu non sumo. E' un'ottima passaparlamento. Che cosa facciamo? Noi abbiamo fatto un foglio in Toronto, che non è una cosa più se non conosci. Abbiamo pagato in anno 2015, quando ci sono informazioni che abbiamo pagato e il servizio che ci sono aspettati. A base del fai, ci sono persone che ci sono cercano, che hanno pagato. Abbiamo pagato, non c'è problema, non c'è un database, non c'è registrato di via, non c'è quello che ci sono pagato, ora ci sono pagato, ci sono pagato. è pago che faccia. C'è quello che noi siamo rima, mille, piccola casa, paga, cava, a base di informazioni con la nostra donna, con la BIN, con noi, è che dia ti paga, che dia ti recibo, che io, che noi ci bisogna. Poi, passa libermente, una volta che faccia, è dentro di un database, ora vai riparare, vai riparare, buoncola, che cosa paga. C'è un lunato, un quartal, un mezzo, un fuori, vai riparare il buon recibo. Per che tempo hai cobrano solo vai riparare, c'è casa? Il recibo non sta praticamente calco nella casa, che è già il nostro, quindi abbiamo un paio, come si chiamo, un'unope cosa, con l'unope cosa, un'unope cosa, come celebri, il ricordo di un lavoro che si è rinitato, di un'unope cosa di 32.000, sono siamo 40.000, quindi facciamo un, due, tre. Il ricordo di un lavoro, sono Tutti tutti i nostri ho, in cui si vuole una cosa, è stata una cosa grande, perché ci sono come tempo e sei bello, mentre vengono, la nostra destra, la domanda a come, a come se metto, tutti il ricevo.